Ebbene trovati ragazzi dai vostri... Mino e Mina! E oggi siamo di nuovo nella Grarian Sky! Ma che bella visuale! Ragazzi qui la torre sta continuando... E abbiamo trovato anche cosa farci, vero? Hai trovato! Ho trovato! Ecco, e ora poi vedrete meglio nei prossimi episodi... Fuoco! 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 Scaricalo subito! E vabbè, un altro si scarica subito al primo livello questo qui... Vabbè poi faremo anche i livelli successivi almeno... Dove sto andando? Dove sto? Torno indietro! Perché bisogna fare i livelli successivi? Cioè li faremo perché oggi ragazzi tocca... Di nuovo, visto che è l'ultima mod che abbiamo fatto nel scorso pack... Tecnico ovviamente... Tocca alla! Me l'abbiamo mica fatto, l'abbiamo fatto? Sì sì, l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta! Sì? Abbiamo fatto l'uplid! Nello scorso abbiamo fatto... Eh, sei stata poco attenta! Non mi ricordavo! Sì tipo i mega impianti! Va bene! Allora, innanzitutto Ila ha fatto un po' di ghiaccio! Come vedete qui c'è il ghiaccio... Oh! Ti dà un cuore intero il ghiaccio! Oddio! Eh vabbè! Qui ragazzi ce ne vogliono decimila e lo stanno già facendo eh! Quindi... Cioè andiamo a preparare dal 64... Quindi fa un pochino ci sarà! Ok! Andiamo avanti! Sì scusa andiamo avanti! Qui prendiamo il cuore intanto siamo a 60 ora! Andiamo! Eh cosa bisogna fare? L'ME Drive! L'ME Controller! L'ME Crafting Terminal! L'ME Crafting Terminal! Quindi ME... Allora ti dà un consiglio! Così facciamo prima! Apri la chest... La crafting scusa! Sì! Ok! E cerca ME... Dalla crafting! ME... Controller! Controller! Ok! Faccio così! Ok! Faccio così! Tieni premuto shift e poi... Ok! Però devi prendere tutto quel materiale che hai... Non me lo dà però! Ti ho messo tutto il materiale... Ah lo prenderlo metto qui dentro! Eh sì! Lo devi avere nell'inventario! Perfetto! E ragazzi queste cose devono ancora impararle! Ogni volta che si fanno mod... I mod pack tecnici non le... Non le faccio mai! Se no ci mettiamo a terminali! Infatti sono una cattiva persona! Ma di sicuro la gente che ci guarda e dice Ma perché non fanno così è perché ragazzi sono di fuori! Eccolo! Uno! Vai! Poi? Poi? Hai fatto il... Controller Drive! Quale? Questo qua? Vai! Poi! Crafting Terminal! Sempre ME! No! Crafting... Ok! Ok! E... L'ME... Un... 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 Eccolo, questo qui, e il Lame precision export buff, che però l'ho già fatto però, non me lo dà, eh perché l'ho già fatto io? Questo non me lo dà, ma non devi cliccare lì sopra, devi cliccare sulla, ma li avevo già fatti, ok tutti e due, perfetto, e quindi queste cose le rimetto qua dentro? Tienile un attimo nell'inventario, perché devi rimettere là dentro? Ok, intanto suonano, no cos'è? Il telefono, questo è il telefono di casa, vado a rispondere, vado vado, avete perfetto, allora ci vediamo tra poco, eccoci tornati, guardiamo, infatti qua ci dà tutto completato, poi mi devi spiegare a modo questi qua, a cosa servono? I cavi? Sì perché, cioè, non l'ho visti tante volte però ora, hai detto che l'avevi fatta, quindi? Due, oddio, due qua, infatti l'Aplid è quella, per me è quella più difficile, non so se c'è altre difficili a livello, apriamo lo zenitto, ah, quello è già aperto, il giorno, rune of sacrifice, ci avevamo, quello della pioggia, no, ci avevamo, una volta sì, però non so a che fine ha fatto, comunque io ho trovato quattro blocchi dell'altare, quello della, del sacrificio, ah, meno male, poi ragazzi questo qua è off camera, lo sposteremo perché qui è troppo, cioè, è troppo piccolo come spazio, che bisogna ingrandirlo ancora, ne faremo un pochino più là, un pochino più là, basta cambiare i blocchi, non lo so, ebbè ora vediamo, comunque la continuiamo, dobbiamo posizionare questa roba, ok, e il digital store, questa qui, eh, ora dobbiamo crearlo, vuoi fare prima questo? No, dimmi te, sì, allora, l'assembler l'abbiamo già preparato con dark, quindi il materiale che è rimanente nel, questo? Sì, puoi fare un, un MA assembler, che è il primo che ti chiede la quest, ok, vado subito, oh, non mi va, ti sa che crash il mondo, e, crashato, e vai, io ci sono, e ci sono anche io, assembler, ok, invece io devo fare, assembler fatto, poi, dimmi, dimmi, non mi ricordo, non mi ricordo, guardate, devo aprire il libro, velo, 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 eh, non è più il pattern encoder, no, quella accanto, eh, ti manca, eh, non l'abbiamo più fatti i materiali, quello e la crafting, va, questo qua, ti serve quello, per te, ok, l'ho detto ragazzi che la up lead è quella più difficile, ragazzi, è due giorni che ci sto dietro, è quella più difficile, tu l'hai la gomma, ma ce n'hai solo, ah, ti serve, dimmi, vado a prenderti una cosa, anzi, vieni con me, facciamo prima, sì, come vedete ragazzi, eh, oltre alle novità del, del canale, che non so se vi piace la nuova grafica, e anche il cambio del nome, eh, che è stata, diciamo, una decisione abbastanza, eh, cioè, decisa in, non in breve tempo, eh, da tanto che ci pensavamo, fateci sapere anche se, eh, vi piace, eh, il nuovo, eh, il nuovo orario dei, dei video, che sono tutti, oddio, cosa, cosa, no, ho sbagliato, la crafting, infatti, che sono tutti, eh, sono tre a settimana, vedendo anche, diciamo, gli impegni che avremo, eh, la, eh, da settembre in poi con lavoro, eh, molto aumentato, fra virgolette, e niente, eh, noi continuiamo, come vedete, stiamo facendo solo la granina, perché la granina ha un termine, cioè, fra pochino finirà, e quindi inizieranno nuove cose a settembre, quindi nuove serie, come ogni anno succede, dove devo mettere questa crafting? No, ti, ti serviva per, ti serviva per craftare la roba, è mai dentro? Sì, devi finire di fare una cosa, però, ok, ok, e questa? Sì, no, non c'hai, ah, ma era quell'altra, e ora, la rifaccio, boh, ok, eccolo, quattro? Ma sì, falli, crepi l'avarizia, ok, poi? E, M, HETVENT, come si scrive HET? H-E-A-T, e questo, HETVENT, no, non abbiamo queste, e falle, ok, hai finito il ferro? Ho finito il ferro? Ho finito il ferro? Ho finito il ferro, aspetta te lo metto nell'altra, vai c'è uno stack, ragazzi non so quanti stack di ferro ho fatto, con questo no è giusto che vado a prendere anche i cavi nel frattempo facciamone di meno facciamo ma basta che clicchi una volta solo senza shift e questo ormai vedere obituato dirà rimancano i cavi questi cavi qua devo farli no io ci non ci avevo a 9x dax c'è un solo una infatti ce l'avevo vista vai a ci sono ci sono attenzione di questi ce ne serviranno un po 4 vai ce l'ho piena intanto completiamo e ti manca il pattern pattern provide 3 4 5 comunque ragazzi di tutte queste cose qua io voglio fare complimenti a Ilaria perché se ne è occupata lei in questi giorni per te ragazzi quante cose ha fatto e cosa c'è scusa ultimo pattern non è l'ultimo il penultimo provider pattern pattern quello che non hai fatto prima ci serve un'altra di queste e noi si fa per il resto dovresti aver tutto no ti manca un così no si questo non ce l'ho vai vai falli ok e l'ultimo dulcis in fundus tra fundus e era rimasta la task cpu tra cui qual è questa è questa boom ma poi allora il problema adesso è montare tutto intanto riguardiamo un casino di cose ragazzi ne guardiamo ti dà un casino di cose tratta anche una borsetta da dimmi che è una cosa delle apple di fuori via io ho trovato una cesoia così sono i pesci eccoci ragazzi di nuovo tornati come vedete siamo qua per il ghiaccio perché qui sono due stacca da 64 stacca da 64 cosa dico e stiamo vedendo che ci sono già 8.000 quindi arriva a 10.000 e ci siamo quasi di qua no? si intanto faccio un po' di manual submit così aumentiamo ok perfetto siamo tornati anche qua nella health kitchen l'ha girato perché ragazzi guardando il libretto guardate un po' se torniamo indietro health kitchen guardate un po' tutto sbloccato quindi possiamo finirla il problema qual è che guardate un po' quanto bisogna farne 200 200 ma soprattutto toast 10.000 cioè come il ghiaccio bisogna farne 10.000 di tutte queste cose qua e quindi niente io direi che finiamo il ghiaccio e poi ci vediamo nel prossimo episodio appunto dove se c'è dark finiamo cioè ci serve appunto l'applied per poter raggiungere l'obiettivo di 10.000 perché farla a mano ragazzi è impossibile il prossimo finiamo laggiù l'applied quindi facciamo tutto l'impiantino più e quindi finiamo anche con la health kitchen e andiamo avanti con le cose quindi aspettiamo un attimo Ila per io sono al 79% aiutami io 79% tu hai spazio nell'inventario? si prendi un po' di blocchi e fai manual submit ho finito ho presi tutti io ho fatto prima io 85% tu hai del ghiaccio? si no non devi andare sul ghiaccio infatti non me lo clicca 86% ragazzi quindi mi sa che lo finiremo nel prossimo episodio quindi ve lo facciamo vedere nel prossimo episodio quindi da mine mine tutto in linea allo studio ciao ragazzi blablabla blablabla